Sfatiamo i falsi miti. I falsi miti sono bisogna per forza a tutti i costi fare le sanatorie. In realtà noi partiamo da un altro presupposto, che l'immobile sia sano. Se poi il condomino o l'amministratore ci dice che ha eseguito dei lavori senza autorizzazione, che ha portato delle modifiche o che ha dei presentimenti strani, allora lì andremo a fare degli approfondimenti di indagine, dato che il bonus facciate non richiede all'accesso l'asseverazione del tecnico sulla conformità urbanistica. Ma banalmente, se così fosse, vuol dire che è una pratica che bisogna fare molto velocemente e in maniera molto snella.